MySilverWind è stata sicuramente una sfida del 2014 che la Lutron e la Pellini hanno affrontato nel migliore dei modi in quanto le richieste dell'armatura del cantiere erano molto customizzate e molto personalizzate sulle richieste alla sua volta dell'armatore stesso. Abbiamo adottato i migliori motori, i motori più silenziosi in commercio e sono stati lavorati dalla Pellini con la solita esperienza e la solita capacità per ottenere un prodotto assolutamente unico in linea con il resto dell'imbarcazione. Le motorizzazioni Lutron vengono lavorate dall'azienda Pellini in Italia consentendo di ottenere una silenziosità di funzionamento al top di gamma con 38 dB percepiti a un metro di distanza dal motore. Il motore è a 24 volt in continua per cui il motore è molto silenzioso. La garanzia dei nostri prodotti è di otto anni e dato che l'azienda Pellini è convenzionata con i nostri motori consente di mantenere la garanzia di otto anni non solo sulla parte di meccanica ma anche sulla parte di tessuto e di gestione quindi totale della tende. Le tende peraltro hanno la possibilità di essere sempre allineate in quanto il motore Lutron è fornito di un encoder quindi di un sistema di conto di giri che consente sempre di avere le tende allineate. Questo permette sia di avere uniformità della luce all'interno di un'imbarcazione e allo stesso tempo consente di mantenere una visuale pulita e molto chiara dall'esterno della barca. Grazie a tutti!